Utilizzare le moderne tecnologie per educare ed evitare situazioni problematiche. E così a Castrovillari la realtà virtuale diviene veicolo di buone pratiche. Tutto accade nell'ambito del progetto Nei Panni di Caino per capire e difendere le regioni di Abele, che ha fatto tappa nella città del Pollino, ed ha visto protagonisti la Polizia di Stato, il mondo della scuola, ma soprattutto gli studenti. Nei locali del Tribunale, attraverso i visori utilizzati per la realtà virtuale, sono stati illustrati ai ragazzi i comportamenti da adottare e il tema è quello del bullismo e del cyberbullismo. La clip che ho appena visto trattava appunto di azioni illecite, nella quale proprio alcuni ragazzi hanno creato delle immagini per mettere in cattiva luce una ragazza, nella quale poi si è trovata appunto in chat di Whatsapp. Sicuramente credo che reagirei e difenderei la mia amica o il mio amico, perché non sono comportamenti adeguati. E non è bene fare branco e far finto di non vedere queste azioni. Fenomeni sempre più diffusi, quelli del bullismo e del cyberbullismo, tutti quindi a lezione dagli esperti del settore. Abbiamo anche l'onore di avere i massimi rappresentanti delle forze dell'ordine a livello provinciale, che ovviamente con la loro competenza rappresenteranno ai ragazzi quelli che sono i pericoli e anche alle iniziative sia preventive che repressive sul territorio che loro pongono in atto. Il cyberbullismo e il bullismo sono fenomeni molto comuni tra i ragazzi e noi cerchiamo di fare prevenzione soprattutto per aiutare i ragazzi a comprendere il modo giusto di rapportarsi con i propri pari. Grazie. 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 Grazie.